Azienda di successo, il tema al centro dell'incontro promosso da OSM Partner Benevento e rivolta agli imprenditori del territorio. L'obiettivo è quello di impattare sul territorio attraverso il tessuto imprenditoriale, quindi l'invito è rivolto a tutti gli imprenditori, a tutti coloro che hanno un'attività, un'azienda, hanno delle persone, hanno delle risorse umane, che è praticamente il capitale di oggi. Infatti il capitale umano genera il capitale economico e il mio intento è quello di aiutare gli imprenditori, di affiancare gli imprenditori. Un percorso in cui le risorse umane diventano centrali. C'è una migrazione di mente brillante di risorse umane che lasciano il nostro territorio, quindi oggi il mio intento è quello di sensibilizzare gli imprenditori del Beneventano affinché possano valorizzare i giovani. Attenzione rivolta in particolare alle piccole e medie imprese. Oggi bisogna dare molta attenzione alle imprese nel territorio sicuramente e cercare di far trasferire a loro quali sono le azioni di successo che le aziende che stanno continuando a vincere mettono in atto, quindi bisogna molto attenzione a questo. Ci sono alcune cose che aiutano le imprese e la condivisione tra imprenditori spesso aiuta tantissimo. Spazio dunque al confronto tra le diverse realtà del mondo produttivo ed esperti del settore. Se uno applica alcune strategie come prendersi cura delle persone, dedicare attenzione al marketing, gestire bene gli aspetti finanziari dell'impresa, è possibile generare valore. Noi vogliamo che nascano delle belle imprese leader proprio in questa provincia. Noi vogliamo che世isci che può conoscere cupra delle mie imprese grazie a tutti i nostri aiuti, city posti controllo che sono leudenze a chi f forkando laownza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.